andiamo I'm not that much I didn't even get into the fire I don't have enough I don't know I can't even get into the fire I can't even get into the fire I can't even get into the fire My... è stato un po' è stato un po' è stato un po' è stato un po' sono stati in un po' un po' Vabbè, lì la piccia è tu, tec. Anonymous is on the right way. Where are you? Thailand left? Oh, brother! I'm not going to slow Oh nice Camper Dalla Camper Dalla I have a thailand Where? Where will he tell you something? What is that? What is that? What is that? What is that? Tell me. He is there. I didn't know. I killed the island. I killed the island. I killed him. 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 Anonymous is there. He killed the island from the right. He killed him. And the blue team is in the league. I killed him. The blue team is in the league. Fuck. Nice. Nice. Oh no! Oh i nades! Why are we separati? Where are you going from? You're going from left, I'm going from right. ebbè 2 ebbè 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 Cover me! Lefto! Here! 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 1 HP! 1 HP! I'm not talking now Basir! C'è il mio nome della barba di fronte Sì, c'è il mio nome Sì, c'è il mio nome Oh no No, non ero qui, è qui il i vieni non mi chiamo non si non scampi E' un'escalante. E' un'escalante non è che il giusto che il giusto. Ah d'accordo. E' un'escalante in questo modo che i stai facendo una campione. Non mi stai facendo un'escalante. Guardate.. 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 I need.. Now he killed silent.. I did it.. Anonymous.. Non c'è nulla... Oh no... Non c'è nessuno, mi ha lasciato un filo. Il silent è inolito. Mi ha detto che i fatti. Sennò i fatti prendono. Mi ha detto che i fatti. silent sono state i ammissi 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 so i hope this video will be liked so guys like, share and subscribe and get in the next video allah hafiz